adesso io devo andare a cagare l'obiettivo scendete fuori da casa andiamo fuori del cognone bene rieccoci col gruppo ferrata gruppo alpini al corno medale siamo sul lago di Lecco si vede non lo so dove film magari all'inizio sarà pesante difficile però poi vedrai che ti aiuterà più facile delle ciamare magari ti attacchi ma qui è solamente così no di qui ti devi già attaccare no dico ci sono i ferri poi o? no pochi ah è tutto così? si ok allora fammi stare di qua però che sono più comodo comincia ad attaccarti perché comunque se cadi è un bel lavoro allora vediamo di far piccoli passi facciamo una prova puntiamola in alto ok ok Oh Ok Ok Quello lì dovrebbe essere l'ecco Teoria Ok 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 sei sul selettivo vabbè sei sul selettivo ci fermiamo a bere eh easy puo bravo 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 è successivo non mi piace te rilassi perciosa ci si lo vedo bello spedito rispetto a no Sì, ma quelli di là quanta roba aveva me ha dato? Chi? I due che stanno facendo le vie di lì Eh? E se ne hanno avuto un 30 kg di torno di più Quei cazzo fanno a stare aspettati con lì Questa è la Madonna Ha visto come lì magari E che figlio più Sì, io così proprio adesso posso andare all'altra E scula te! T'è là Ortega Eh, là che arriva Avrà fatto già 300 flessioni 400 addominali Le due seghe Le due seghe, è giusto Spero non pensando a noi eh Eh? No, mi sono incastrato In che senso? Orario anti-orario? No, che non capivo Eh eh Occhio eh Mi cazzo è sciolto quello lì Ebbè Mi sembro Ebbè Mi sembra un trichecco rispetto a lui Sì, ma da qui è proprio grosso Ma da qui Fa niente Se c'è il trichecco che c'è lì Io sono un lavantino qui Fa niente, l'importante è andare su L'importante è arrivare vivi E conquistare la vetta Figa Figa Poi Sì, ma mè Sto scommette qua A parte che non ho capito Vabbè, qualcosina Ma figa, ci stanno tratti cambiamenti di tempo Figa, ma c'è il dolore che ho avuto In questi giorni qua Sì 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 Adesso si dice Tempo scatuto Vuoi due mangiare a rinvio Come? Come? Come un ma... Ah sì Quando è andato a imparare a giocare a steak Sì Ah Un mangio a rinvio Il mio Su e culo La mia classe Coglionato 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 Il mio Salve Salve lì era tranquillo di quella parte lì per quello ce l'ha lasciato un attimo poi ho visto che l'ingassato lì questa è la vetta invece ok siamo sul sentiero che ci porta giù che non è più facile dalla salita questo con ghiaccio deve essere bello questo con ghiaccio deve essere bello guarda dire che c'è un peggio un peggio maraviglia 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 sai che con ghiaccio non tribuni nulla qua è buono che è tutto il contrario ma non è bello un peggio maraviglia un peggio maraviglia un peggio maraviglia non è bello Siamo tornati al punto di partenza e qua si conclude possiamo salire io qua ancora alla prossima